Prosegue la collaborazione tra il Comune di Belluno e Cortina Banca. Dopo il rinnovo della fontana di Piazza dei Martiri, ora si passa alla cultura e lo si fa con uno sguardo provinciale. A beneficiare dell'accordo, grazie al protocollo di intesa tra gli enti siglati lo scorso anno, questa volta saranno Fondazione Teatri delle Dolomiti e il suo progetto Culture Link, finanziato da Fondazione Caliverona, che ad oggi vede coinvolto già 39 tra enti e associazioni di categoria e realtà del mondo culturale provinciale, che mira a coordinare e promuovere le attività artistiche e la conoscenza delle arti tra i giovani. Dei laboratori, intanto propedeutici, porteremo le scuole a teatro e museo, ma soprattutto anche delle mini produzioni che faremo sul territorio e che porteremo e sporteremo fuori. Quindi un catalizzatore dove intercetteremo talenti e con questi giovani, in qualche modo, cercheremo di portarli fuori per valorizzare la loro bravura anche al di fuori di un contesto territoriale. 120.000 euro contributo di Cortina Banca, che verrà spalmato nel corso di tre anni. Un'attività importante che, dal capoluogo, guarda ai giovani e all'intera provincia. Un progetto che va a sviluppare cultura nel territorio, soprattutto portare la cultura vicino ai giovani, per farli crescere attraverso la cultura, attraverso laboratori e capire cosa è la cultura. Credo che questo sia importante per far crescere un tessuto sociale. È un progetto a cui noi crediamo molto perché crediamo che la possibilità di fare rete, la possibilità di unire le forze per sostenere un mondo culturale che è fondamentale per il futuro dei nostri giovani, della nostra provincia, sia una cosa assolutamente da sostenere. Un impegno importante dal punto di vista finanziario e temporale, che, se il progetto darà i frutti sperati, potrà anche essere rinnovato. Noi abbiamo aderito a una progettualità di tre anni, ritenendo che tre anni sia il tempo minimo per riuscire a gestire un intervento di questo tipo. Dopo tre anni non è detto che la cosa non possa continuare, anzi sarebbe spiccabile perché vorrebbe dire che il progetto ha avuto degli sviluppi positivi.